Diciamo che è la prestazione che vorremmo cercare di ripetere quante più volte possibili perché alla solidità che abbiamo avuto a casteggio, abbiamo ritrovato la qualità nel gioco, nella manovra potremmo essere un po' più cinici, però davvero bravi ai ragazzi perché adesso la serie di risultati, pareggio e vittoria inizia a essere importante vogliamo provare a risalire quante più posizioni possibili, come sempre attraverso la qualità delle prestazioni e forza ragazzi perché oggi è una prestazione che dà tanta fiducia per quello che sarà il nostro futuro